Allora siamo con il mister D'Alessio intervenuto nel corso della nostra 47esima puntata sei venuto per la prima volta in questa trasmissione, le tue sensazioni a caldo? Sicuramente positive perché è una trasmissione secondo me di qualità anche negli ospiti e come la conduci quindi ti faccio davvero grandi complimenti In bocca al lupo per il futuro che sia un settore giurale importante di qualità come ricordato in trasmissione o della prima squadra di livello che davvero arrivi là chiamata giusta per una carriera in attesa della giusta consacrazione Settore giovani del Napoli, tante esperienze importanti, tanti giovani ad occhiati però che possa arrivare finalmente la chiamata giusta Io mi auguro, ma del resto come tutti gli allenatori che possa arrivare la chiamata giusta ma la chiamata giusta per Gianni D'Alessio è come dicevo prima in trasmissione e dove Gianni D'Alessio si possa sentire sereno e tranquillo di poter lavorare e portare avanti un'idea